Siamo con Martellotta del team per view Putignano qui nelle immagini, seconda posizione per lui, davvero un grande successo. Ecco, spiegaci un attimo l'andamento della gara perché è iniziata praticamente nella piana della Nevena, tutto pianeggiante. Come è stata la dinamica in pratica all'inizio, che è successo? Allora, in pratica ce ne siamo andati in tre della stessa squadra, io De Lucia e Mino Cattedra e subito dietro c'erano a seguire Semeraro e Salatino. Niente, abbiamo condotto la gara in comune accordo, ovviamente eravamo della stessa squadra. Al primo giro siamo passati, insomma, io e De Lucia, Cattedra, ha avuto un imprevisto, ha tagliato il copertone. E niente, la corsa abbiamo proseguito insieme, mentre alle spalle Salatino, che poi è arrivato terzo, ha preso e staccato Semeraro e quindi abbiamo fatto un trist oggi. Ecco, spiegaci anche, quando siete arrivati sul Monte Lifoi, che cosa è successo? Niente, sul Monte Lifoi, insomma, eravamo in CPM e... Niente, insomma, stavamo sempre tutte e tre, l'altimetria, l'altitudine si faceva sentire, insomma, era più pesante. Però abbiamo trovato molto fango e ci siamo ben destreggiati. Sì, 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 abbiamo gestito tutti e tre. Niente, è stato molto bello, il percorso è segnalato perfettamente, molto sicuro e bello. Ecco, di chi temevate come società sportiva? Eh, temevamo la New Second Team con Semeraro dietro, però eravamo ben coperti dal compagno di squadra Salatino, che ha fatto una prova eccezionale oggi, è arrivato terzo. Siamo con Salatino della Team Preview Petuniano. Ecco, Salatino, com'è stata la dinamica? Tu tenevi dietro, in pratica, intanto arrivano altri bikers, come si vincerebbe, tenevi dietro praticamente Semeraro. Alla fine temevi questo atleta, questo biker, che poteva giustamente insinuarsi nella tua posizione. Come hai destreggiato? L'hai incontrato? Vi siete incrociati? Sì, esattamente, a fine primo giro era terzo Semeraro, io quarto lo vedevo qui. Qui, esatto, all'inizio del secondo giro. Siccome sapevo che i miei compagni di squadra avevano un passo ben più alto, io ho cercato di gestire tutta la gara. Quando ho visto Semeraro proprio all'inizio del secondo giro, diciamo che là mi sono fatto ancora più forza, l'ho ripreso e poi di mio passo sono riuscito anche a staccarlo e arrivare terzo. Ecco, ma questo scontro con Semeraro, questa sfida, questa competizione è stata più sulla velocità oppure sulla gestione della gara, visto che è considerata che la tua bici è piena di fango? No, credo che sia stata più per la gestione della gara. Forse Semeraro avrà fatto qualche fuorigira all'inizio e invece ha cercato di gestire, perché sapevo che la gara comunque era dura. I due giri erano dure a questa gara. Siamo con Costella, ecco Costella in una posizione, un'ottima posizione, un percorso molto difficile, un tracciato dove abbiamo raggiunto attitudini davvero straordinarie e spettacolari. In effetti, innanzitutto, diciamo, com'è stato il percorso? Il percorso è stato molto duro, pieno di pozzanghere, buche, radici, è stato molto tosto, con tante salite, panorama pazzesco, bellissimo come sempre. Io è il secondo anno che vengo, è molto bello, molto affascinante il percorso, molto duro e quindi diciamo che ci siamo divertiti, va, è stata una bella gara. Ecco, ci puoi spiegare un attimo la gara? All'inizio tu non eri nono, eri nei primi, insomma, poi dove c'è stata praticamente la separazione del gruppo? Diciamo che i primi chilometri sono riuscito a stare con la testa del gruppo, poi è iniziato un po' fango, pozzanghere, quindi un po' di percorso più tecnico, ho cominciato a staccarmi e quindi poi ho preso il ritmo mio e sono andato col passo mio, gli altri andavano più forte. Bene, quindi in effetti, secondo te, in effetti in questo percorso era necessario anche il ritmo, aveva anche un ritmo, insomma? E beh, assolutamente sì, a parte la tecnica, il ritmo fa la differenza poi, perché diciamo quando c'erano i percorsi dove si poteva pedalare, il ritmo poi fa la differenza. Ecco, siamo con Rizzo, primo assoluto del team Aurispa ciclistica, ecco, davvero un grande successo, dove hai capito che praticamente avevi la vittoria in mano? La gara è stata un continuo susseguirsi i sali e scendi, i primi sei chilometri erano molto fangosi, quindi ci voglia la giusta tecnica. Siamo andati via io e altri due miei amici, abbiamo fatto la gara praticamente in tre, conosce il percorso, aveva una marcia in più, quindi ho deciso di attaccare l'ultima salita. E quindi è andata bene, perché ho avuto la fortuna di provarlo ieri, il percorso, gli ultimi tratti finali e questo mi ha aiutato molto. Bella soddisfazione per me, per il mio team, sono contento. Diciamo che in effetti, com'è stata la dinamica della gara nel complesso, secondo te, in pratica? Allora, la gara è stata, abbiamo fatto un buon ritmo, è stata abbastanza veloce come gara. C'erano delle salite veramente impegnative, strappi al 20-25%, certi tratti dove si doveva spingere necessariamente la bici, perché il terreno era veramente reso molto fangoso dalle abbondanti piogge di questi ultimi giorni, anche se hanno fatto un lavoro incredibile, l'associazione Riccio, di questo veramente siamo veramente felici, oltre che per l'accoglienza, perché qui è sempre bello venire in questa terra, bellissima. Siamo con l'Ardo di Silino Bike, che praticamente ha effettuato già diverse prestazioni positive, nelle prime posizioni in diverse gale. Ecco, alla fine, spieghiamo un attimo, com'è stata la dinamica della gara? Beh, innanzitutto un complimento lo facciamo agli organizzatori, perché il percorso è stato davvero impeccabile, anche se è un po' insidioso, molto tecnico, però come forse qualche mio collega ha detto, Pozzangher è al punto giusto, è un po' fancoso, però alla fine è molto molto bello, tecnico. Bene, per quanto riguarda la dinamica, beh, ero nelle prime posizioni e nulla, mi è mancato quel guizzo in più, perché sono un po' giù con gli allenamenti, però contentissimo, quindi davvero contento, ecco. Siamo con Santarsiero della Lupus Bike Basilicata, seconda posizione per lui, grande successo, ecco, sei soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto, il percorso è stato molto tecnico, bello, un po' di fango, ma ci voleva, perché le gare di mountain bike, secondo me, sono queste. Sì, soddisfatto, sì, ovviamente la seconda posizione è sempre quella più amara, perché o primo o terzo, dal terzo in poi, però va bene così, dai, ci siamo divertiti e va bene così. Ecco, durante la gara tu sei stato terzo, ma il quarto dietro il quinto, in effetti, sono stati competitivi, ecco, secondo il terzo, il quarto e il quinto sono stati competitivi rispetto ai confronti, tu li hai, in un certo senso, saputo gestire. Allora, io ho fatto la gara primo, dalla partenza, fino a 500 metri dall'arrivo, quindi sono stato sempre io primo, senza avere cambi da nessuno, quindi diciamo così. Sì, c'erano altri due che alla fine sono arrivati all'ultimo chilometro a prendermi e poi, insomma, ha vinto Andrea Rizzo. Sinceramente gli altri di dietro non li ho visti, perché sono stato con i primi tre, nei primi tre, quindi gli altri non so come sono andati, ecco. Qui con il ciclista Capesci Giuseppe, che ha praticato il ciclismo dilettantistico. Cosa ne pensa di questa seconda edizione della Marathon qui a Picello? Eh, in tempi mie questo non esisteva, ma oggi vanno tutti i corsi fuori strada, bike, mountain bike, tutto, in tempi mie questo non esisteva. Diciamo che sono iniziative fondamentali per la società, vero? Esatto, sì, e quindi, che devo dire, in tempi mie si correva soltanto su strada con la bicicletta da corsa. Sono nati altri sport nel frattempo, grazie.